vogliamo parlare oggi del tabernacolo della testimonianza e del servizio del santuario però prima leggiamo salmo 84 che abbiamo iniziato a meditare oggi ed è ciò che ci accompagna lungo tutto questo ciclo di predicazioni salmo 84 o quanto amabili sono le tue dimore o eterno dell'eserciti l'anima mia si strugge per i cortili dell'eterno il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al dio vivente anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccoli presso i tuoi altari o eterno degli eserciti mio re e mio dio beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano di continuo beato l'uomo che ripone la sua forza in te che ha in cuore le tue vie o le vie del santuario beato l'uomo che ripone la sua forza in te che ha a cuore le vie del santuario quando attraversano la valle di Bacala trasformano il luogo di sorgenti e la prima pioggia la ricopre di benedizioni e si vanno di valore in valore e infine compaiono davanti a dio in Sion vogliamo leggere anche Esodo 25 versetti 8 e 9 essi mi faranno un santuario e io i bietterò in mezzo a loro me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti vogliamo leggere anche Ebrei 9 versetti 8 e 9 lo Spirito Santo voleva così dimostrare che la via del santuario non era ancora resa manifesta mentre sussisteva ancora il primo tabernacolo il quale è una figura per il tempo presente se leggiamo attentamente la scrittura il tabernacolo della testimonianza il tabernacolo dell'alleanza era fatto di due tabernacoli quando Ebrei parla di questo sta parlando della divisione tra luogo santo e luogo santissimo quindi chiama il primo tabernacolo il luogo santo e il secondo tabernacolo il luogo santissimo ora Dio dice che lui ha costruito ha dato ordine che si costruisse un santuario quindi l'idea di avere un santuario è l'idea di Dio non è l'idea dell'uomo Dio ha pensato che doveva essere necessario costruire un santuario con uno scopo qual era lo scopo del santuario? che lui potesse abitare in mezzo al popolo quindi Dio dà ordine di avere un santuario di costruire un santuario che facesse lo scopo che servisse da casa di Dio in mezzo al popolo quindi il volere di Dio lo scopo di Dio era di abitare in mezzo al popolo lui voleva avere una casa in mezzo alle persone e Dio sapeva esattamente come voleva quella casa e quali utensili dovevano essere usati secondo quale modalità ok? quindi Dio dà ordine di costruirli una casa e di costruirla secondo un modello ben preciso ne comanda tutti gli arredi ne comanda tutte le stanze perché questo? perché quel modello era un modello eterno lo leggiamo in Apocalisse 15 versetto 5 c'è scritto che il cielo si aprì e Giovanni vide il tempio del tabernacolo della testimonianza quindi quel modello è un modello eterno ed è un modello eterno perché ogni cosa al suo interno ha un significato ogni cosa al suo interno simboleggia una cosa precisa che Dio ci ha voluto dare e ce lo spiega in Ebrei capitolo 9 perché ce l'ha voluto dare ce l'ha voluto dare perché è una figura per il tempo presente cosa significa che è una figura che è un modello al quale noi ci possiamo ispirare quindi perché dovremmo studiare qualcosa che ormai è passato perché la tenda di Mosè la tenda dell'Alleanza ormai è passata ma questo modello nasconde dei significati importanti e dei principi che noi dobbiamo conoscere ed assimilare per comprendere maggiormente come funziona il tabernacolo celeste allora ognuno di noi è chiamato ad essere sacerdote in eterno amèn tutti noi siamo stati chiamati ad essere un regno di sacerdoti quando tu sarai nel cielo tu sarai sacerdote e se sei sacerdote hai bisogno è il tuo lavoro è il tuo mandato di avere a cuore le vie del santuario le vie del santuario cioè la casa di Dio sono state affidate a te affinché tu te ne prenda cura non è il compito dei pastori non è il compito dei responsabili di chiesa è il compito di tutti coloro che sono stati lavati dal sangue di Gesù di tutti quelli che sono stati innestati nel corpo di Cristo allora ripeti questa frase come me io come sacerdote non posso non sapere queste cose perché queste cose sono il mio lavoro amèn non possiamo non sapere queste cose perché queste sono il nostro lavoro in eterno amèn in eterno noi serviremo al santuario amèn il santuario celeste è diverso dal santuario che era nella tenda di Mosè ok ma la tenda di Mosè è stata fatta secondo un modello eterno che ci insegna delle cose quindi prima di parlare di quello che è il tabernacolo celeste di quello che è il modello definitivo del posto dove saremo per sempre abbiamo bisogno di guardare alla figura perché tanti di noi non sanno nemmeno come è fatta quella figura e non sanno neanche usarne i principi durante le nostre sessioni di lode adorazione il tabernacolo di Mosè era diviso in tre in tre spazi principali quali sono questi tre spazi cortile esterno luogo santo e luogo santissimo che cosa sono per noi la domenica quando noi lodiamo il signore noi facciamo sempre lo stesso percorso spirituale ogni domenica quando noi lodiamo Dio facciamo sempre la stessa cosa non so se vi siete accorti magari cambiano i canti cambiano i tempi cambiano i modi ma noi passiamo sempre dalla stessa strada ed è importante che parliamo di queste cose perché ognuno di voi deve realizzarlo cioè è importante che ognuno di voi quando canta Dio e canta canta le lodi tra virgolette della domenica ma non sono le lodi della domenica quando noi stiamo lodando insieme il signore è importante che ognuno di voi sappia dove siamo nello spirito sappia quello che stiamo facendo e il posto dove siamo allora questi tre luoghi non voglio non voglio farne una dottrina super inflessibile ma semplicemente un modello questi tre luoghi rappresentano tre momenti della lode adorazione e sono la lode e il ringraziamento il cortile il luogo esterno la lode e il ringraziamento la Bibbia dice di entrare nei suoi cortili con lode e il ringraziamento il luogo santo cioè il luogo della purificazione ok il luogo della preghiera il luogo dell'intercessione e il luogo santissimo che è il luogo della gloria e della contemplazione ogni domenica noi facciamo questa strada e ve la spiego nella pratica quando entriamo di solito cosa facciamo facciamo un paio di canti veloci ok in questi canti veloci qual è lo scopo quello scopo lo scopo di quei due canti veloci è che ognuno di noi lasci a terra la sua tristezza i pensieri della settimana tutto quello che lo ha faticato si concentri su Dio e lodi Dio per ciò che lui è per ciò che lui ha fatto lo ringrazi quando noi facciamo questa cosa che cosa succede nella nostra vita entra la gioia quando noi lo diamo Dio quando ci concentriamo su Dio ci svuotiamo di noi stessi e ci riempiamo della presenza di Dio ci stiamo collegando con lui e nel cortile che cosa c'era nel cortile c'era l'altare degli olocausti cosa si faceva nell'altare degli olocausti si sacrificavano gli animali che cosa rappresenta per noi oggi il sacrificio del corpo Romani 12.1 il nostro culto spirituale quindi presentare i nostri corpi in sacrificio vivente quindi significa mantenere il nostro corpo in santità ma significa anche avere uno stile di vita santo poi che altro rappresenta il sacrificio della lode Salmo 116 versetto 17 ce ne sono mille di versetti ne ho presi alcuni solo per capire l'idea generale ti offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome dell'Eterno e poi Ebrei 13.15 allora queste cose che vi sto spiegando devono essere per voi come le tabelline ok non so se avete mai fatto questa esperienza a scuola io ho fatto questa esperienza che c'erano in classe mia le maestre alle elementari sto parlando vietavano l'uso della calcolatrice perché se usavi la calcolatrice poi non ti abituavi a fare i calcoli e se facevi sempre i calcoli con la calcolatrice poi eri molto più lento quando si arrivava a fare i problemi e i compiti in classe non avevi dimestichezza con i numeri ok quindi i problemi eri in un certo senso estraneo ai numeri e io ho visto tante persone che sono state abituate a usare la calcolatrice che arrivano ai 13 anni e 15 anni dicono io non capisco niente di matematica sai perché non hanno capito niente di matematica perché che non hanno posseduto i numeri e le tabelline e sapete le tabelline come si imparano in un modo solo a memoria a memoria e sapete come si fanno i calcoli senza la calcolatrice in un modo solo facendo esercizio allora se tu possiedi questi elementi base come le tabelline se queste se i modelli della Bibbia sono per te come le tabelline allora sarà in grado di fare i calcoli nell'economia del regno amén e c'è un solo modo per imparare queste cose a memoria e con l'esercizio amén tanti di voi lo so non fate finta di non saperlo anche voi dicono queste cose tanto ci sono nella Bibbia poi quando le devo spiegare o le devo insegnare me le vado a ripassare allora la via del santuario deve essere scritta dentro di voi amén non è una cosa una nozione non è una nozione perché sia scritta dentro di voi quelle cose devono essere sapute a memoria ammenadito dovete conoscere quegli spazi quei luoghi come se fossero casa vostra amén ci credete a questa cosa? amén quindi nel cortile c'era l'altare degli olocausti poi c'era la conca di rame che cos'era la conca di rame? una grossa bacinella dove i sacerdoti si lavavano perché si lavavano? perché si sporcavano ok? uno perché erano sporchi quando entravano è anche un simbolo di purificazione e due a forza di tagliare di tagliare gambe di tagliare teste un po' si insozzavano di sangue no? e quindi si lavavano prima corinzi 6 versetto 11 che cosa rappresenta per noi la conca di rame? ortali eravate già alcuni di voi ma siete stati lavati ma siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo spirito del nostro Dio noi siamo stati lavati e santificati quindi la conca di rame rappresenta il lavacro della croce della parola di Dio della santificazione in Cristo Gesù Efesini 5 26 è l'opera della croce Efesini 5 26 dice lo leggo dal 25 mariti amate le vostre mogli come anche Cristo amato la chiesa dato se stesso per lei per santificarla avendola purificata con l'avacro dell'acqua per mezzo della parola beati quelli che hanno a cuore le vie del santuario questo è il santuario queste sono le vie quindi sacrificio di lodo e ringraziamento purificazione durante la domenica noi facciamo un paio di canti veloci a volte perché ne facciamo tre o perché ne facciamo quattro perché la chiesa non sta ancora lodando e ringraziando possiamo cantare canzoni ok possiamo cantare canti di gioia e non essere gioiosi e il compito di chi conduce la lode di chi suona di chi aiuta la chiesa facendo questo servizio è di percepire la temperatura spirituale dei cuori delle persone e sono sicuro che come lo percepiamo noi anche voi lo percepite vi capita che siamo in chiesa stiamo facendo questi canti stiamolo dando eppure sembra che non stiamo andando da nessuna parte allora quello è il momento per insistere amen amen ed è per quello che noi facciamo qualche canto veloce in più e a volte ne facciamo di meno perché ne facciamo di meno perché voi entrate e siamo già tutti sintonizzati su Dio siamo già tutti nell'atmosfera del ringraziamento e quindi velocemente possiamo passare oltre amen è chiaro questo quindi noi di solito per spiegarvi praticamente facciamo un paio di canti veloci poi facciamo un canto che è un canto di intermezzo che è un canto che di solito parla del sangue di Gesù del sacrificio della croce dell'opera di Cristo perché? perché passiamo dall'avacro ora questo modello è il modello semplice è la versione semplificata ok? perché la versione non semplificata sarebbe quella di andare direttamente saltare tutti questi passaggi e stare nella gloria purtroppo tante volte non siamo pronti per questo e quindi abbiamo un modello che ci fa fare alcuni passaggi di preparazione quindi entriamo attraverso il lavacro nel luogo santo che cosa c'era nel luogo santo? tre cose il il candelabro la tavola dei panni della presentazione l'altare dell'incenso ok? quindi il candelabro che cosa rappresenta? rappresenta la luce molto semplice la luce che è venuta nella nostra vita ma anche la presenza di noi stessi a Dio il fatto che noi siamo davanti a Dio Apocalisse 2.5 se tu non ti ravvedi io verrò e rimuoverò da te il candelabro il candelabro rappresenta la tua vita accesa come un fuoco davanti a Dio amè? e la luce della sua vita accesa dentro di te amè? i pani la tavola dei pani della presentazione quanti erano questi pani? dodici come le tribù quindi ogni tribù ogni pezzettino di Israele presentava se stesso un pane fresco ogni giorno che cos'è per noi il pane fresco? la parola di Dio e leggo velocissimamente qualche versetto Amos 8.11 velocito direttamente negli ultimi giorni non ci sarà più fame di pane ma fame della parola di Dio Matteo 4.4 non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio prima Corinzi 11 pezzetti 27 e 28 dice perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice cioè il pane della Santa Cena nel luogo santo è un luogo di esame amè? e alla tavola di Dio noi veniamo per essere anche esaminati ci lasciamo esaminare veniamo alla luce per essere esaminati amè? quindi abbiamo la luce abbiamo i tavoli della presentazione abbiamo l'altare dei profumi che cosa sono i profumi? le preghiere dei Santi lo dice Apocalisse 5 e 8 e Apocalisse 8 3 li leggo velocemente questa è l'introduzione Apocalisse 5 e 8 e quando ebbe preso il libro i quattro esseri viventi 24 anziani si prostrano davanti all'agnello avendo ciascuno delle cetre delle coppe d'oro piene di profumi che sono le preghiere dei Santi Apocalisse 8 versetto 3 poi venne un altro angelo che aveva un turibolo d'oro e si fermò presso l'altare e gli furono dati molti profumi affinché li aggiungesse alle preghiere di tutti i Santi sull'altare d'oro che era davanti al trono poi arriviamo al velo alla cortina questa cortina era fatta di tre fili intrecciati che ci parlano anche della Trinità ok ed erano scarlato blu e violascio e sono il sangue il sacerdozzo e la regalità ebrei 10 20 che cosa rappresenta la cortina molto facile ebrei 10 20 avendo dunque lo leggo dal 19 avendo dunque fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù che è la via recente vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo cioè la sua carne la domenica che cosa facciamo dopo quel canto che rappresenta il canto di passaggio non so se avete notato che cerchiamo di fare sempre canti che parlano della santità di dio avete notato questo parliamo della santità di dio io entro nel luogo santo portami nel luogo santissimo il tuo nome è santo perché facciamo questo perché stiamo entrando nel luogo santo nella santità di dio e in quel luogo noi esaminiamo noi stessi noi presentiamo qualcosa di fresco vogliamo anche ricevere qualcosa di fresco una rivelazione nuova della parola per cui in quel tempo che cosa facciamo chiediamo c'è qualcuno che ha ricevuto una rivelazione c'è qualcuno che ha qualcosa da condividere perché questo è quel pane fresco poi cosa può succedere che chiediamo o diamo dei temi di intercessione e ci troviamo a pregare e poi ultima cosa il luogo santissimo nel luogo santissimo che cosa c'era l'arca del patto dentro l'arca del patto c'erano tre cose le tavole della legge la la manna e la verga di aronne e quindi la testimonianza cos'è la legge la legge era la testimonianza il fatto che dio c'è che cosa rappresenta l'arca l'arca rappresenta i piedi di dio l'arca rappresenta i piedi di dio e dio dice di costruire l'arca con sopra un propiziatorio che cos'è il propiziatorio il propiziatorio è un coperchio con il coperchio e i cherubini perché dio dice di fare dei cherubini perché in apocalisse leggiamo che dio siede tra i cherubini quattro cherubini che reggono il suo trono e i suoi piedi appoggiano sopra questo quindi l'arca era il luogo dove lui poggiava i suoi piedi il luogo del governo il luogo della maestà e noi la fine del nostro percorso di adorazione la domenica dovrebbe essere lì ai piedi del signore a contemplare la sua grandezza ora ho fatto questo semplice piccolo studio perché voi capiate cosa succede ogni domenica non deve essere per voi un imprevisto il prossimo canto che ci sarà voi dovreste già sapere che cosa succederà perché questa strada l'avete percorsa mille volte sapete che stiamo entrando nel luogo santo sapete che siamo davanti a dio quindi abbiamo bisogno di padroneggiare questo modello e questa via ora il punto di tutte queste cose è questo che quando noi parliamo del tabernacolo e del santuario noi stiamo anche parlando del popolo scelto per servire al tabernacolo e al santuario perché non ci può essere tabernacolo e santuario senza i sacerdoti tu sei stato scelto per prenderti cura delle vie del santuario che cos'è il lavoro del santuario dio dice che aronne i leviti erano stati scelti per fare il servizio del santuario che cos'è per noi oggi il servizio del santuario il servizio del santuario è santificare il nome di dio in che cosa consisteva nel tabernacolo di Mosè il servizio del santuario ditemi in cosa consisteva nel tabernacolo di Mosè che cosa facevano i sacerdoti per servire dio tutte le cose che facevano per servire dio si prendevano cura dei sacrifici ok quindi i sacrifici che portava il popolo ma anche c'era il sacrificio per il peccato che veniva offerto per loro e per il popolo una volta all'anno poi c'erano i sacrifici di ringraziamento che portava il popolo e poi c'era il sacrificio perpetuo l'olocausto continuo mattina e sera mattina e sera non c'era no non c'era popolo non c'era popolo questo olocausto questo servizio era il servizio veramente importante olocausto servizio mattina e sera loro sacrificavano a Dio così come mattina e sera sempre del continuo mantenevano il fuoco acceso quel fuoco sempre acceso era lì solo per Dio quel sacrificio continuo era solo per Dio amèn una cosa solo e unica per lui non serviva non serviva per aiutare il popolo non serviva per aiutare il sacerdote non era strumentale a qualcosa era qualcosa di esclusivo per Dio era il servizio io lo chiamerei lo chiamo per cercare di capirci il servizio della presenza di Dio perché quando noi parliamo del servizio a Dio noi pensiamo che noi serviamo Dio servendo nella sua opera giusto? ed è una cosa giusta noi serviamo in chiesa e stiamo servendo Dio noi evangelizziamo e stiamo servendo Dio noi serviamo i popoli e stiamo servendo Dio ma c'è un servizio che anche se non fai niente di tutto questo è la parte migliore e più eccellente ed è il servizio della presenza di Dio in qualche modo la presenza di Dio va onorata sempre e la presenza di Dio va onorata a prescindere dai poveri a prescindere dai perduti a prescindere dai ministeri a prescindere da tutto quello che ruota nel regno di Dio a prescindere da tutte le dimore che ci sono nella casa di Dio c'è un luogo dove l'adorazione è continua e in quel luogo noi staremo per l'eternità a prescindere da tutto quello che Dio vuole fare con il suo piano c'è qualcosa che è sopra c'è qualcosa che è più importante c'è qualcosa che ha la priorità c'è qualcosa che ti è stato dato e mai più ti verrà tolto in eterno questa è la buona parte amè? tu sei chiamato a servire la presenza di Dio amè? questa è la chiamata più alta che tu potrai mai avere nella tua vita questa chiamata nessuno te la può togliere questa chiamata nessuno te la può schiacciare questa chiamata nessuno la può fare al posto tuo amè? e di questa chiamata il Signore ti chiederà conto se sei stato uno che si è preso cura delle vie del santuario in altre parole sei stato uno capace di servire la presenza di Dio altre cose che i sacerdoti facevano erano consacrare i sacerdoti e i leviti i sacerdoti consacravano i sacerdoti un'altra cosa che facevano molto pratica montavano smontavano spostavano la tenda che cosa significa questo per noi che noi siamo incaricati di portare la presenza di Dio dovunque andiamo amè? se noi conosciamo quel modello se noi conosciamo quei luoghi se noi possediamo quel servizio lo consideriamo il nostro servizio lo consideriamo la nostra casa lo consideriamo la nostra parte lo consideriamo la nostra eredità non altre terre non abbiamo bisogno di terre non abbiamo bisogno di possedimenti come i leviti perché l'eterno è la nostra parte se noi consideriamo le vie del santuario la nostra parte allora dove noi andiamo portiamo la presenza di Dio amè? il lavoro sacerdotale è la santificazione del nome di Dio quando Gesù insegna a pregare dice Padre nostro sia santificato il tuo nome che cosa significa santificare il nome del Signore? significa mettersi davanti a Dio e dire il tuo nome è santo il tuo nome è santo tu sei santo tu sei santo questa è la prima cosa che Gesù insegna nella preghiera amè? e noi abbiamo bisogno di appropriarci di tutte le emozioni che accompagnano questo servizio amè? deve essere la nostra passione santificare il nome del Signore Davide istituisce classe di cantori per benedire il nome del Signore tu puoi benedire il nome del Signore questa cosa è grandiosa tu puoi benedire Dio noi cerchiamo sempre le benedizioni di Dio ma tu puoi benedire Dio questo è qualcosa di glorioso tu puoi santificare il nome di Dio amè? che cosa gloriosa che cosa esclusiva che chiamata alta questo compito è un compito sacro ed è un compito realizzante vuoi realizzarti in Dio? servi la presenza di Dio se tu servi la presenza di Dio se tu apri il tuo cuore e santifichi Dio Dio ti incontrerà Dio farà risplendere il suo volto su di te ma perché? perché ha visto che ti sei impegnato? no perché sei al posto giusto nel momento giusto perché nel luogo della gloria lui splende non può non splendere non è una lampadina che si accende e si spegne poi dice ah è arrivato Michele adesso posso splendere no lui splende in eterno la sua luce copre tutta la terra copre tutti i cieli amen e se noi ci colleghiamo con questa realtà se noi prendiamo a cuore le vie del santuario la luce del suo volto risplenderà su di noi e saremo trasformati di gloria in gloria amen voglio leggere con voi esodo 40 poi l'eterno parlò a Mosè dicendo il primo giorno nel primo mese erigerai il tabernacolo la tenda di convegno vi collocherai l'arca della testimonianza e nasconderai l'arca con il velo quindi vedete quando erigono il tabernacolo fanno tutto al contrario no? prima costruiscono il luogo santissimo e ci mettono dentro l'arca subito ok? erigerai il tabernacolo la tenda di convegno vi collocherai l'arca della testimonianza e poi la nascondi subito con il velo vi porterai dentro la tavola e disporrai le cose che vi devono andare sopra vi porterai il candelabro e accenderai le sue lampade collocherai l'altare d'oro per l'incenso davanti all'arca della testimonianza e metterai la cortina all'ingresso del tabernacolo metterai l'altare degli olocausti siamo già nel cortile davanti all'ingresso del tabernacolo della tenda di convegno collocherai la conca fra la tenda di convegno e l'altare e vi metterai dentro l'acqua disporrai i tendaggi del cortile tutti intorno e metterai la cortina all'ingresso del cortile poi prenderai l'olio dell'unzione e ungerai il tabernacolo e tutto quello che vi si trova e lo consacrerai con tutti i suoi utensili e sarà santo ungerai pure l'altare degli olocausti e tutti i suoi utensili consacrerai così l'altare e l'altare sarà santissimo ungerai anche la conca con la sua base e la consacrerai poi farai avvicinare a Ronne i suoi figli all'ingresso della tenda di convegno e li laverai con acqua rivestirai a Ronne delle vesti sacre questo succede a te ogni giorno quando ti presenti davanti al Signore lo ungerai e lo consacrerai perché mi serva come sacerdote devi servire Dio come sacerdote farai pure avvicinare i suoi figli e li rivestirai di tuniche e li ungerai come avrai unto il loro padre perché mi servano come sacerdoti la loro unzione sarà per essi un sacerdozio perpetuo l'unzione dello Spirito Santo sulla tua vita è per te un sacerdozio perpetuo per tutte le generazioni e Mosè fece così fece esattamente tutto ciò che l'Eterno gli aveva ordinato e riprendo dal versetto 33 e resse pure il cortile attorno al tabernacolo e all'altare e mise la cortina all'ingresso del cortile così Mosè terminò il lavoro allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria dell'Eterno riempì il tabernacolo e Mosè non poté entrare nella tenda dei convegno perché la nuvola vi si era posata sopra e la gloria dell'Eterno riempiva il tabernacolo in tutti i loro spostamenti quando la nuvola si alzava al di sopra del tabernacolo i figli di Israele partivano ma se la nuvola non si alzava non partivano fino al giorno che non si fosse alzata poiché la nuvola dell'Eterno stava sul tabernacolo durante il giorno e di notte e su di esso stava un fuoco davanti agli occhi di tutta la casa di Israele durante tutti i loro spostamenti quando tu vai davanti a Dio aspettati che la tua vita sia riempita di gloria amén non accontentarti di nulla di meno e quando tu vieni in chiesa e insieme percorriamo la via del santuario aspettati di arrivare nel luogo santissimo e attendi la gloria di Dio che riempia questa casa amén amén Dio ha comandato un santuario non siamo noi che ci siamo inventati un santuario non sono gli ebrei che si sono inventati un santuario Dio ha comandato un santuario e Dio ha dato un modello un modello che potesse essere compreso affinché lui potesse venire ad abitare e quando noi ci riuniamo insieme per lodare il Signore nello spirito stiamo facendo questo realizziamo con le nostre lodi una casa per Dio noi siamo spiritualmente il santuario noi siamo spiritualmente la casa ma noi anche costruiamo una casa un trono con le lodi a Dio affinché Dio dimori in mezzo a noi e possiamo sperimentare insieme quello che è già dentro di noi così io voglio invitarvi a rileggervi queste pagine se non conoscete queste cose e a saperle come le tabelline è un'immagine molto semplice però io mi ricordo poi al liceo quelle persone che erano stati abituati a fare la calcolatrice e poi non erano capaci di applicare le proprietà delle potenze non erano capaci di fare le cose più semplici le espressioni più semplici perché? perché non avevano imparato le tabelline ma non era colpa loro né che erano deficienti né che la matematica era troppo difficile era colpa dell'insegnante che non gli aveva detto è vietato usare la calcolatrice così io oggi ti voglio dire è vietato usare l'enciclopedia per questa cosa tu hai bisogno di saperla a memoria hai bisogno di saperla dentro di te e di saperci camminare dentro amén amén vogliamo alzarci in piedi grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!